Come WWF non siamo soliti portare avanti polemiche sulla stampa relativamente ai temi ambientali di cui ci occupiamo, ma la risposta dell'assessore Valdo di Buonaventura al nostro comunicato su una serie di tagli di alberi a Teramo del 20 ottobre scorso rende necessaria una risposta. Così il WWF Teramo che all'indomani della conferenza stampa indetta dall'assessore comunale Valdo di Buonaventura contro replica. Contrariamente a quanto lascia intendere l'assessore nel nostro comunicato non mettevamo in dubbio la necessità per un'amministrazione comunale di rimuovere le piante malate laddove rappresentino un rischio per la sicurezza dei cittadini. Evidenziavamo allora e ribadiamo oggi però che le malattie delle piante sono spesso legate a carenze gestionali del verde pubblico che a Teramo si trascinano da anni. Se una pianta si ammala e diventa pericolosa il più delle volte ciò è dovuto ad interventi sbagliati effettuati nel tempo. Va poi detto che nello specifico non sempre a Teramo si sono tagliati alberi malati. Sicuramente non erano malati i 12 tigli tagliati per allargare la fermata degli autobus davanti all'istituto tecnico per geometri in Biacona. Non ci risulta che fossero malati i pruni tagliati davanti alla scuola San Giorgio e certamente non erano malati neppure i pini tagliati anni fa davanti alla scuola Noelucidi. Il WWF quindi rinnova l'appello al sindaco di Teramo e all'assessore all'ambiente affinché l'amministrazione comunale affidi rapidamente l'incarico per la redazione di un piano e di un regolamento del verde. attivandosi nel contempo per convocare una riunione con le associazioni e gli ordini professionali del settore nel corso del quale illustrare come il comune intenda muoversi su questo tema.